Millantare, minacciare, mistificare. Quando Putin si fa intervistare da un reggicoda, rimescola sempre la stessa pozione, con un ingrediente immancabile, la bomba atomica. Anche stavolta agita il grande spetro, dicendo che la Russia è pronta per una guerra nucleare se si sentisse minacciata, che il loro arsenale atomico è migliore di quello americano, ma che in Ucraina non c'è bisogno di usare le atomiche. In effetti, missili, bombe, droni, proiettili, tutto l'armamentario convenzionale basta e avanza. Ieri a Crivi Ri cinque morti, oggi due assumi, e parliamo di civili inermi, e citiamo solo gli ultimi episodi di uno stilicidio che dura da oltre due anni. Negoziati solo sulla realtà consolidata del terreno, precisa il boss del Cremlino, tradotto. La fetta di Ucraina che ci siamo presi è nostra, nessuno ce la toglierà. A Mariupol, la città rasa al suolo nei primi mesi di invasione, gli abitanti votano, li fanno votare, per le presidenziali russe. Farsa che si chiuderà domenica con l'ennesimo plebiscito per l'ex ufficiale del KGB. Infastidito per l'adesione della Finlandia alla Nato. Non avevamo nemmeno truppe schierate lì, ora lo faremo. Sul Baltico tira un'aria gelida. La Lituania non esclude di inviare soldati in Ucraina. Mentre Iulia Navalnaia dice che troppi in Occidente vedono Putin come un leader politico legittimo, discutono sulla sua ideologia e cercano una logica politica nelle sue azioni. Ma per la vedova di Navalny Putin non è un politico, è un gangster, il capo di un gruppo mafioso. E soltanto così si può comprenderlo.